Per l'onore di essere. La mia vita è stata zeppa di io. Ho stuprato vergini mandate nei collegi dalle mammine tenere e sagaci. Dopo di me le ragazze sono diventate vergini sgualdrine e fino a poco tempo fa ho gongolato per l'onore di essere un vincitore delle femmine in genere. Perché? Perché? Commento. Perché sei alle primissime incarnazioni umane e invece di essere un selvaggio la legge ti ha incarnato nei paraggi di una civiltà.